Allora facciamo preparare a Diana Lucrezia. Nel frattempo che arriva lei ci fa ascoltare un titolo che adesso ce lo facciamo un po' raccontare, molto velocemente. Dopo, abbiamo Nora, quindi se Nora si vuole avvicinare al palco, grazie mille. Ciao, buonasera. Prendi anche il microfono. Allora, due secondi. Gingerbread Man è un pezzo di Melanie Martinez, carinissima lei, una vocalità pazzesca. Il coraggio di aver portato sto pezzo è perché, velocemente, al microfono. Ci siamo? Sì, vai, ci sei. Perché, in senso di tutto, è un ruolo che mi piace e perché lei è la mia cantante preferita. E allora dobbiamo assolutamente ascoltarti. Un applauso ancora a lei. Il coraggio di Maria 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 Il coraggio di Maria